Il centro-destra si scaglia contro il sindaco di Pescara per il caso immigrati. Proprio ieri si erano riuniti per una raccolta firme che impedisse l'arrivo di nuovi ospiti in un albergo del lungomare sud di Pescara. Un colpo all'economia del turismo, secondo Lorenzo Sospiri e Fabrizio Rapposelli. A rispondere oggi è Marco Alessandrini che li accusa di strumentalizzazione politica. La verità è naturalmente diversa, il sindaco non ha una competenza specifica sul punto che è competenza del Ministero dell'Interno. Qualche numero che aiuta a capire i termini della questione. L'Abruzzo al pari di Trentino, Alto Adige e Sardegna ospita il 2% dei migranti in Italia e siamo al penultimo posto nella classifica. L'ultima è la Basilicata che ne ospita l'1%. Detto questo, la questione nasce dalla disponibilità resa da alcune strutture alberghiere ad ospitare migranti e quindi essendoci questa disponibilità resa d'inverno, essa permane d'estate. Nessuna modifica la politica dell'ospitalità, ribadisce il sindaco, che annuncia anche l'introduzione di attività di integrazione. È forse un caso piacevolmente fortuito ma proprio oggi 15 migranti ospiti delle strutture della Caritas iniziano lavori socialmente utili presso il comune per in qualche modo restituire alla comunità che lì ospita un servizio e per favorire l'integrazione.